Bilancio 2021 positivo per l'hotel inclusivo e senza barriere in Masacce, gestito a Caldaro dalla Onus Lebenshilfe. Oggi la presentazione alla stampa. Luigi Grella. Un albergo confortevole e accogliente, come è lecito attendersi da un tre stelle sulla strada del vino. In più il Masacce di Pianizza di sopra, frazione di Caldaro, è diventato un modello di inclusività, sia per l'assenza di barriere architettoniche, che lo rende accessibile anche ai diversamente abili, sia per la presenza di questi ultimi nello staff dell'albergo. Un modello di ospitalità senza barriere che funziona anche sul piano economico. Dopo la riapertura di giugno, il tasso di occupazione delle stanze ha dato grandi soddisfazioni, dice Hans Wiedmann, presidente di Lebenshilfe, e l'associazione senza fini di lucro che gestisce l'albergo. Per noi è un bel successo, soprattutto anche perché è un albergo di inclusione sociale. Abbiamo circa 30 collaboratori dipendenti, di cui 10 disabili psichici, che funzionano come tutti gli altri. E questo per noi è una soddisfazione grande. Il modello funziona anche grazie al sostegno della provincia di Bolzano, che ha messo sul tavolo 500 mila euro per la rimozione delle barriere architettoniche. L'hotel, una stanza costa tra i 60 e i 110 euro a persona, colazione inclusa, riaprirà per la Pasqua e le prenotazioni già fioccano, ma al di là delle soddisfazioni economiche, resta quella, certamente più importante, di migliorare la vita delle persone, in particolare dei diversamente abili che lavorano in hotel. È bello perché ha questo doppio ruolo, oltre quello dell'hotel, anche quello di inclusione, ed è bello che questi ragazzi possano non solo ricevere uno stipendio, ma sentirsi partecipi della vita quotidiana.